numero 80 noi ci teniamo per la salute dei corridori l'80 Don Silvano andò così può misurarsi la pressione ascolta possiamo anche mettere qua un euro ogni misurata facciamo i soldi subito mettiamo qua al tavolo misuratore di pressione 80 e Don Silvano numero 11 11 11 11 11 ecco veloce 20 bottiglie più ritardo diventa mezzo litro numero 60 60 60 70 c'è eccolo là grazie per il vino numero 50 numero 50 wow che numero c'hai 50 te? dalle lampade per il giardino ti piacciono? le metti in giardino così gli metti gli uomini e intorno gli metti le lampade e così si illuminano bravo ok grazie numero 74 74 numero 45 45 45 45 mi alza la mano ecco che numero 45 ok Numero 33, 33, 33, arriva, ok, maglietta, maglietta, là, 33, là, eccolo qua, numero Gianni, numero Gianni, numero 7 che ritira la signora, numero 7 cosa gli dai? Ecco, taglio la signora, vieni. Ecco, taglio la signora, vieni. Grazie.